Come lo facciamo? Come lo fate e cosa significa? Prima di tutto, basta trappanare le patine gialle e poi mettere semplicemente queste chiavi, fissarle dopodiché fare passare una corda qua l'abbiamo chiusa con un nodo a gassagamante e dopodiché le abbiamo incrociate una a una cioè nel senso un foglio per blocco e le abbiamo alternate, quindi uno, 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 uno in questo modo la superficie che esercita a tritto è grandissima perché appunto ci sono 1.100 pagine e ogni...